bolzano vicentino schianto frontale sulla strada postumia due ricoverati musi distrutti delle due auto doppia ambulanza prima dell'alba di oggi sullo scenario di un incidente stradale sulla postumia all'altezza dell'incrocio con lo svincolo che porta al centro urbano di bolzano vicentino a venire soccorsi gli occupanti dei due autoveicoli coinvolti nella collisione violentissimo l'urto ad impatto frontale tra le auto tanto da sbalzarle all'indietro per alcuni metri disintegrando cofano e rispettivi vani motore immediatamente scattato l'allarme al 118 con la richiesta di soccorsi immediati in codice rosso i vigili del fuoco venuti dal comando provinciale berico si sono prodigati per liberare un uomo a bordo della fiat punto rimasto incastrato e in condizioni serie in seguito si sono occupati della messa in sicurezza del tratto di strada occupato dai due mezzi con detriti sparsi per decine di metri oltre al guidatore dell'utilitaria fiat anche l'altro conducente seppur in condizioni meno preoccupanti è stato trasferito in ospedale a vicenza per accertamenti a